ciao a tutti inizio oggi una serie dedicata a starfield come preannunciato sulla parte community del canale ero pronto con le critiche perché dicevo che conosco bethesda e in effetti la mia conoscenza non si è smentita anzi niente il gioco sappiamo a 88 di media eccetera eccetera sappiamo già di alcune cose tipo per esempio che non c'è un volo libero nello spazio non c'è una non è possibile atterrare sui pianeti come per esempio si fa in no man sky ma vabbè questo io me lo aspettavo perché sapevo che loro usavano ancora per l'ennesima volta il loro engine ed è l'engine che soprattutto non permette questa cosa ok il punto è lì cioè il punto è conosco bethesda in che senso so che è una delle aziende più rigide più come dire proprio cioè se abbiamo come dire degli indie che propongono cerco sempre di fare delle novità all'interno magari di come dire mezzi limitati bethesda al contrario bethesda fa giochi un po' con lo stampino ed è una delle ragioni per cui non mi sta simpatica allora io facciamo così ci sarà questa parte introduttiva in cui io io voglio sfogarmi già un attimo se non vi interessa questa parte di sfogo saltate metrò magari i capitoli sotto quindi col time stamp è stata direttamente quando inizia il gioco perché un attimo proprio bisogno di sfogarmi perché mi sono proprio arrabbiato prima mentre facevo le prove cosa voglio dire voglio dire che sarebbe ora tra l'altro sto leggendo anche dei thread su steam sarebbe ora che la bethesda mollasse ste engine del cavolo e passasse non so per esempio appunto la real engine 5 però ieri leggevo dei articoli in cui dicevano ma noi non possiamo perché noi abbiamo fatto abbiamo accumulato decenni di quello che viene chiamata game logic e non è così facile passare dal nostro engine a un altro engine sì peccato che per esempio io ti rispondo che arriva l'obsidia e fa the other wars con la real engine neppure non è che l'ha usato la real engine e cos'è a the other wars è un fallout è un gioco è un gioco tipicamente da bethesda quindi ce l'hanno fatta loro perché non ce la fate voi non potete mettere lì non so 20 persone in qualche anno a migrare tutto no non si può questo è proibito cioè è una risposta che mi aspetto da loro come dicevo è una è un'azienda veramente secondo me rigida un po come lo è in giappone la nintendo per capirci io non sono fans nemmeno della nintendo hanno fatto dei capolavori hanno fatto delle cose buone ma per certe per certe altre cose sono dei dinosauri e idem è la bethesda dicevo quindi normalmente lo uso ancora lo game creation come si chiama versione 2 che in realtà è ancora basato sul game brio che è vecchissimo e continua a trascinarsi dietro problemi prima o poi dovranno appunto mollarlo no no per ora no immaginatevi che probabilmente anche velder scroll 6 sarà ancora lo stesso engine avrà ancora gli stessi problemi però il problema qual è è che fallout 76 gira meglio di questo per esempio non è che su schermo questo abbia tante cose dei più di fallout 76 dicevo ho letto per esempio sono ho messo l'iscrizione a un thread su steam in cui c'è uno che dice ah io da 4.090 faccio 40 50 frame e tutti ovviamente c'è tutti tanti adine dietro ovviamente perché ci sono sempre i fans e ci sono quelli che invece sono un po più ragionevole razionale no segui un po il 3 da un certo punto dicono no no ma guarda che tu non di guardarci più della gpu tu di guardarassi più e punto 1 secondo te io poi ovviamente i thread sono in inglese quindi faccio fatica a come dire esprimermi perché sennò mi piacerebbe io sono tra virgolette voi non mi conoscete in quel senso io ero famoso ai tempi di unreal su su ngi sui forum di ngi a fare wall of text come venivano chiamati cioè scrivere un papillo di roba super tecnica super profondita eccetera eccetera per determinati argomenti che vabbè di solito ero video ludici e quindi voglio dire purtroppo chiaramente non avendo come dire questa dimestichezza l'inglese non posso fare la stessa cosa in questo caso no però niente per esempio questi qua dicono ah no perché tu non sai la cpu ma appunto uno uno che ha la 4.090 è plausibile che abbia una cpu di m secondo me no ok cioè se io spendo 2.000 euro di scheda video magari c'è anche un processore da 1.000 euro non ci voglio dire nel senso cerca di ragionare e in più anche ammesso che avesse un processore leggermente sottodimensionato sta parlando di 40 frame sta parlando di 50 frame quindi che processore stai chiedendo tu esattamente un processore che non esiste non lo so io trovo ridico questa cosa poi vai avanti a seguire ci ha insistono con questa cosa la cpu in un certo punto di attuare che io per esempio un ryzen 9 7.9 x che praticamente è ampiamente più che sufficiente per far girare anzi abbiamo visto che ormai sono le schede di le schede video a fare d'accordo di bottiglia in realtà nella maggior parte dei giochi anche nel 4.090 non riesce a spingere quanto può spingere o il mio o addirittura ormai c'è 7.950 x 3d quindi non riesce a spingere non ci sta dietro perché basta fare le prove abbassando la risoluzione e vedi fremere due vano e vedi che alzando la risoluzione fremere si ferma molto prima da lì capisci che è proprio un problema di potenza di scheda video quindi di che state parlando poi un certo punto è stata fuori un altro che dice ma vedi perché solo la bethesda fa dei dungeon con 400 oggetti dentro e la cpu deve renderizzarli che stai a dire prima di tutto perché deve renderizzare qualcosa che non si vede perché se lo renderizzi e non si vede sei un idiota ok e in più anche se ne tenesse conto infatti anche altri hanno detto ma non è che qua stai facendo una simulazione non so di un mondo e dici cavolo ok serve la cpu della nasa perché stai simulando un intero pianeta tutti che fanno attività le loro attività vanno riposare eccetera no non è così ok non è così e in più ti ho due due modi per smontare di steste ste vacata perché una vacata per conto mio uno allora come mai che oblivion girava anche su ci ha visto che questa cosa qua l'hanno sempre fatta la bethesda o come anche girava oblivion o girava more wind magari non con dei fremere decenti nemmeno a loro perché sono sempre così loro giochi e loro giochi riescono e non girano ok però sto dicendo è chiaro che la cpu e la gpu che faceva girare oblivion non è quella di oggi ma è di decine di volte inferiore come potenza quindi come mai la stessa cosa potevi farla allora invece oggi se la fai ancora non va una cosa seconda cosa un'altra cosa molto semplice sollevato la sequenza dello spazio anche lì fa un freno di m cosa c'è solo in quel momento niente c'è il pianeta e due astronavine che giravano cioè o mi dici che quelle astronavine lì hanno miliardi di poligoni allora poi si inchiava tutto ma siccome non è così qual è il motivo c'è questo discorso queste cose poi già visto limiti interfaccia c'è il problema qual è che io messo a ultra anche perché il gioco mi consiglia ultra ragazzi cioè parto con 60 frame poi quando inizia esserci la parte in cui usciamo da diciamo nella maniera dove siamo va giù a 36 cioè non è non si riesce neanche a giocare a mirare io dico mi aspettavo delle prestazioni non eccezionali ma mi aspettavo almeno non so 70 80 90 frame no vi ho fatto delle prove rapide mettendo i vari preset sono trovato giù anche a medium e cosa cambiava nella sua 44 46 cioè 10 frame in più ma non è comunque giocabile non lo so poi stamattina ho cambiato i driver non lavoro i penulti ma non gli ultimi ma mi supporta uno stir starfield e non gli ultimi che facevano un'altra roba adesso vediamo l'ho tenuto ad alto e ho visto che per esempio in un laboratorio dove sono arrivato quasi 60 riteneva ripeto non hanno nessunissima giustificazione non mi potete venire a raccontare alla storiella della game logic che non puoi passare sotto real engine perché appunto ripeto la ossidianti ha dimostrato che la stronzata perché ha fatto da zero other wars che è esattamente come un gioco dei vostri non mi potete dire che la cpu perché non c'entra niente perché siamo sempre lì ciò vuole dire ricordiamoci che per esempio non so se oggi fai un gioco tipo universim un gioco tipo populous ma populous ragazzi girava anche sulla miglia era più semplificato ma girava sulla miglia cioè una calcolatrice scientifica moderna è più potente della miglia quindi di che stiamo parlando poi se tu appunto mi porti la game logic scritta in basic programmata da schifo ridondante che inceppa tutto ingolfa tutto va bene appunto buttata pure nel cesso quella cosa lì allora no un'altra cosa cosa che stavo per dire ecco un'altra cosa che leggevo nel 3 ad è che in realtà appunto alcuni facevano girare magari a 30 40 frame anche comunque con una 1050 cioè quando tu ti trovi di fronte a questa cosa non questa incoerenza cioè computer molto potenti lo fanno girare comunque male computer che valgono un dieci volte di meno lo fanno girare più o meno le superstazioni vuol dire che lì c'è qualcosa che non va c'è più prova di così non ce ne sono e poi appunto comunque mi fanno questa cosa del esplorare la galassia a pinco pallo e poi non si può otterrare sui pianeti vedere i pianeti in avvicinamento come non so come si può fare in Elite Dangerous come si può fare non man sky qualcuno ha anche detto ah ma non man sky è tutto procedurale eccetera perché qui non puoi fare dei pianeti che non sono procedurali ma le hai fissati no cioè tu non potresti all'interno del sistema di gioco di non man sky fare dei pianeti che sono in realtà fissi perché tu hai deciso che lì c'è quella tal città cosa dite cosa c'entra un engine modello non può far tutto ok può far tutto il loro engine non può far tutto è questo va bene io lo davo per scontato va bene niente passato i più di dieci minuti di lamentele altre ne vedremo in gioco ho già visto l'interfaccia per esempio stavo guardando le armi sceglievo le armi da mettere cioè ti fa la descrizione delle armi non ti dice quanti proiettili sono rimasti se io ho essi dieci armi sono tutte scariche cosa faccio faccio passare un'arma alla volta perché non so i proiettili poi quando ti avvicini anche agli corpi così le cose da raccogliere non c'è una descrizione dell'oggetto che stai per raccogliere cosa faccio per tentativi io raccolgo tutto poi dico ah no ma queste raccine frusali la butto via non ci può essere tra parentesi scritto non so arma pure tra parentesi scritto trash c'è spazzatura no c'è questa è la bethesda ok dopo che i loro giochi io gioco uno di quelli che ho giocato più a lungo è stato fallout 3 per esempio però dico questa è la bethesda non lo so dopo il gioco può essere buono nel senso può essere interessante eccetera eccetera che comunque il frame rate qua mi fa passare la voglia comunque va bene niente adesso vediamo lo vediamo se diventerà una serie regolare o meno io sentivo comunque il doveroso di partire subito con le critiche in quarta perché in realtà io proprio ero incazzato non qua sono già calmo niente partiamo se si deve dare una svecchiata malagrande proprio c'è tendenzialmente non aspetto nemmeno grandi questa non sembra l'inizio della siria di versailles voglio vedere anche la qualità delle quest perché per me saranno tipicamente da bethesda quindi vedremo anche l'intenzialmente artificiale a quello che ho visto sono idioti totali ma c'è dico mi dici ah sono decenni che facciamo ecce dicendo che faccio facci pure l'inizio la prima volta e tu sai bene segui un' ragazza di un'altra regola Hela, che cosa è un'altra regola? ascoltate a Lin, la tante la ragazza conosce esatto ascoltate a me, la portiera è proprio come ogni altro lavoro andate tranqui, andate sicuro andate a casa con un pochettino di credito al final del giorno sì certo, è proprio come pracaggio in la stardoc excepto con più cazzi, lascia e un accidentale C'è anche qua, fa 60 frames, 64. Motivo? C'è un po' di un po' di un sistema sottile a il prossimo. Ehi, più minerali, più money. E così il ciclo si ripete. C'è solo... No più non autorezziati in una casa per ruptare, ok? È solo un grande bambino. Ci sono più pelle. Sì, la maggior parte dei dusti non si tratta così. Mi sento un buon sentimento per te. È un gruppo giugno ora o al fine del shift? Uno di questi giorni, Hela, io lo farò di te farlo. Promete, promete. Ok, vediamo cosa abbiamo. Cosa stiamo in tempo? Un po' più lunga. Adesso prendi un'imprimazione? Sempre. Ma non tu. Guarda Isabel. Assicurare che si tratta di un'eserciata. Non mi sento che stai vivendo oggi. Adesso. Ricordi, Dusty, guarda il tuo respiratore, e non prendi l'eserciata da qui. Processori di oxigeno non si tratta così lunga. Si, perché, grazie a tutti, si tratta di un'eserciata con un'eserciata. Voi lo che mi piace di lavorare in un'eserciata in un'eserciata? Un'eserciata. Un'eserciata come questo in un'eserciata? Un'eserciata? Un'eserciata. 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 Pagli per la scuola, sei un milionario! Let's go! Yeah, yeah, ok... What do we say, Dusty? You make your cut, you get your cut. No exception! Come on, pick it up! Troy, what's the yield? Minimal at this point. Occasional glimmer, but it's weak. What do you think? Say the course? No, ma'am. Juice ain't worth the squeeze. Well, ok, then. Let's call this one tapped. Why don't you move over to that big vein we looked at? Yes, ma'am! Dusty, you're up. Grab a cutter and mine what you can. Metal deposits are in that cabin. I'll shout out when I need you. Ok. Allora, stavo dicendo... La gente non si rende conto di due cose. Uno. Quando uno mi dice che... Decenni di game logic, eccetera, no? Ok, uno si aspetta anche che sia stata raffinata, no? Che i dialoghi... Il sistema di dialoghi sia migliorato. Che il sistema di AI sia perfetto. Che il sistema... Tutto. Che tutti i sottosistemi siano perfetti. Perché sennò dici... Boh, decenni buttati via a far che cosa. Stai usando ancora il primo codice che è scritto nel 92? Non lo so. Poi un'altra cosa. Qui qua sto facendo... 67. Prima 71 frame. Quindi... Però quando scendevamo... Anche lì... Sembra che la gente non capisca come funziona un motore grafico. Tra le mille cose che fa un motore grafico comunque deve renderizzare. Cioè... Calcolare quello che c'è su schermo, no? Se io scendo da un ascensore non c'è nulla. E mi fai 60 frame. Poi arrivo qua... Me ne fai qualcuno in più. Quando c'è tutta questa roba da qua in quadrale. Posso... Posso pensare che ci sia qualche problema. Cioè perché qua fai lo stesso freerate che là mi facevi... Inquadrando un nero. Non so. Però certo... Su console sono abituati... Poi tra l'altro appunto... Poi lo stesso gioco... Si gira 30 frame. Non con questa grafica magari... Ma comunque su una console che è... Che è ridicolo rispetto a questo. Quindi... Non ci sono scuse. Non c'è da perdonare nulla. C'è da dire le cose come stanno. E lo sapete che io non ho problemi a dire... Esattamente quello che penso. Tanto... Non ricevo soldi da... Ma... Avevo pagato io quei miei soldi il gioco. Quindi... S'è la scena. Sì. Come on. È ora. È ora. Tu hai con me. Ehm... Uh-huh Cioè ormai ogni gioco che esce da una storia qua noi come utenti a ragionare se... Cioè ormai ogni gioco? Ehm, non se considera una spica in gravità che è un problema. Non lo so. Non lo so? Quando ci siamo dopo, lo so come una anomalia. E' quello che ho detto comunque. Ok, ora mi stai spiegando. Rilassate, è solo un altro lavoro. Voi! Ok... Ok... Sì, tutto è proprio... Lynn, seriamente, c'è qualcosa di veramente affatto su questo. D'ora, Hela? Sì, penso. Ok, tu, sei qui. Se qualcosa si va male in là, ci siamo arrivati a prenderti. Uh... Dicevo, ogni gioco che esce bisogna stare qua noi utenti a capire se quello che vediamo, le prestazioni infime che vediamo, sono giustificate da quello che gira su schermo. Cioè, queste cose, queste qua in particolare, ma non è che in Skyrim non c'erano questo tipo di rocce. Quindi, per esempio, se lo facevo in Skyrim, oggi mi aspetto che qua le faccia a 300 frame questa roba. No, invece c'è su di 90. Do you see anything? E tu lo giochi su? PC o X? E tu lo giochi su? PC o X? Cioè, tipo qua sono 40 frame. Ok, qui c'è la creazione del personaggio e... anche qua magari... su YouTube quando lo guardate magari saltate. Eh, stavo dicendo che cosa... c'era un'altra cosa che volevo dire... Questo personale... Poi ci sono i preset. Il problema è che nessuno mi sembrava visto che ha il naso come il mio. Vagamente. La creazione del personaggio ti mette ansia, dici? Vediamo... partiamo dal primo. Hm... potremmo anche usare questo come... Vabbè, andiamo a vedere col corpo. Quindi possiamo... Esile muscoloso... Ma anche questo mi sembra ancora abbastanza... Ecco, poi c'è stile andatura questo... E questo... che differenza c'è? Puh... Perché in teoria il corpo 2 è la donna. Quindi mi domando se l'andatura seconda è quella della donna o no. Però, francamente... Camminano male entrambi. Allora, volto... Ok, tonalità pelle... Allora, in teoria la mia testa è abbastanza stretta... I capelli vediamo se sia qualcosa di decente... No, questo direi di no... No, no, no... No, no... 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 Ah... Questo vagamente... Tutti gli altri non c'entrano niente... Colore dei capelli... Mentre ho nei grigi così... Per i facciali... Non ne ho... Occhi... Ecco, poi hanno fatto questa roba qua... Giù, su... Ok... Però ci sono anche questi fondi forma... Che francamente non ho capito che cos'è... Cioè... Sembra che faccia altri parametri... Però non c'è nessuna spiegazione del parametro... Quindi... Boh... Adesso se un giorno fanno un gioco nel quale... Le quest procedono anche in base al personaggio che creiamo... Parli nel senso di estetica, per esempio... Allora, la fronte... No, più che altro... Allora, il naso... Vediamo... Che tipo c'è... Ma ho già visto che sono quelli con le narrici larghe... Cioè... Uno più brutto dell'altro... Forse questo... Però, per esempio, i narrici... Sono un po' più strette le mie... Poi dice su, giù... Ok... Ah... Indietro, avanti... Il problema è che... Cioè... Va avanti per modo di dire... Secondo me... Orecchie, bocca, denti... Mascella... Vediamo le mascelle... Se c'è qualcosa di un po' più... Normales... Mento... Uno più brutto dell'altro... Perché anche se... C'è sempre possibilità di creare dei mostri, praticamente... Ma... Bocca... Ok... No... Direi che non sono... Non ho le labbra così carnose... Ma nemmeno così... Beh... Pare che dovrei sempre... C'è cosa sarebbe interessante... Quanti giga sono? Un centinaio, mi sembra... C'è cosa sarebbe interessante... Che... Permette solo la scansione, no? Ormai con... Per esempio con... Meta Human... Che per esempio è una plug-in... Che serve per... Effettivamente... Fare una cattura... Delle animazioni facciali... Per la Real Engine... Usa... Si può usare anche semplicemente... Un... Un... Telefonino con tre telecamere... Un telefonino con tre telecamere... Già ti permette di... Di... Di fare quella cosa lì... Quindi magari potresti farti... Catturare te stesso, no? Macella... Poi abbiamo il background... Con la tua conoscenza... D'autonomia e i tuoi abili... Salda e mani... Avresti potuto arricchirti... Nel settore chirurgico... Invece hai seguito il cuore... E hai creato opere d'arte... Che stupiscono... E ispirano... Quindi abbiamo abilità... In medicina, geologia e persuasione... Butta fuori... Fusinato, sicurezza, fitness... Balistica, fitness... Fitness cosa vuol dire? Ah ok... Hai più capacità polmonare... Pilotaggio, controllo appuntamento, adestramento... Certificazione pistola... Questo mi sembra già interessante... Duellante, saccheggio, gastronomia... Sollevamento, sollevamento pesi... Quindi sarà ovviamente quello che puoi portare nell'inventario... Medicina, sicurezza, laser... Vabbè sono armi laser... Che all'inizio non abbiamo... Furtività, sicurezza, furto... Persuasione, commercio, benessere... Cosa vuol dire? Benessere adottando uno stile di vita attivo... E buone abitudini alimentari... Si può migliorare la propria salute generale... E persino prolungare l'aspettativa di vita... Vabbè... Cosa vuol dire in pratica? Cos'è che vuol dire? Ho più vita? Sì... Anch'io... Non so se... Se segui... Mi segui su YouTube... Stavo facendo anche... Baldus Gay 3... Ho creato il bardo... Per capirci... Che ha carisma altissimo... Esplora mondi... L'ASA... Astrodinamica... Ne capacità del grave immaturo di una nave... Vabbè... Fucile a canali... Proprio poi così specifici... Fucile a canali... Gli altri non... Cioè... Non può andare bene... Semplicemente... Armi da fuoco... No... Persuasione, sicurezza... Metodi di ricerca... Medico da campo... Medicina, benessere... Potrebbe essere interessante... Abbinando abilmente... Metodi nuovi e collaudati... Un ricercatore può completare... Progetti più velocemente... E persino... Ottenere risultati inattesi... Ma... Oppure questa... Medicina... Pellegrino... Saccheggio... L'erogamento... Non sono mia... Arone... Ce ne sono... Un saccheggio... Sul dato cos'è... Fitness... Balistica... Affidabile potenza... Dei proiettri ad alta velocità... Trasporta tutto... Laser... On... Boh... Io... Quasi quasi... Terei questo... Poi ci sono i tratti... A guzzino... Se l'equipaggio è destrato... In una determinata... Sistema navale... Quel sistema si ripara automaticamente... Al massimo... Oppure... Possiede una casa... Lussuosa... Approcci sopra... Mutuo... Tuoi genitori che sono vivi... Veciti... Puoi andare a trovarli quando vuoi... Ma ogni settimana invierai loro... Automaticamente... Ebbè... Ma cosa ce ne facciamo... Ci costa soldi... Ci costa soldi... Vabbè... Possono essere... Non mi interessa... Hai fatto di conseguenza... Parti con un quantitativo... Di salute... Ossigeno più alto... Ma gli oggetti curativi... E il cibo... Sono meno efficaci... Quindi... Nell'infanzia... Ho fatto parte degli Illuminati... Che qua sono una fazione... Anzi... Tra l'altro mi incuriosiva questa cosa... Perché ho letto che... Il tizio che si è occupato... Della parte di sceneggiatura... Delle religioni... Si è poi fatto prete... Gesuita... Cioè... Tra che mi mettono gli Illuminati... Tra che mi parli di prete Gesuita... Mi si accendono un po' di lampadina a me... Immagino che vedremo... Triangoli... Occhi... Ovunque... Non so... Educazione... Ma perde eccesso al bauru... Della casa degli Illuminati... Ma che... Ma posso non scegliere niente... Mi sono tutti degli handicap... L'empatia tuo forte... Compia l'azione apprezzabile dal compagno di viaggio... Si traduce in un momento temporaneo... E l'efficacia in combattimento... Compia l'azione disprezzabile... Però ha l'effetto diametralmente apposto... E la sua versione cos'è? C'è una persona socievole... Quando viaggi con dei compagni umani... Ogni tuo sforzo consuma meno ossigeno... Ma ne consuma di più in solitaria... Ma... Interversione... Ami la solitudine... Ogni tuo sforzo consuma meno ossigeno... Ma non ti eventuni in solitaria... E di più quando viaggi con umanio... Ma si ma chi se ne freccia... Voglio dire boh... Ottieni l'accesso a opzioni di arlo speciale... Per l'unione coloniale... E ricompense migliori... Per alcune missioni assegnanti... Della fazione... E taglia sui crimini... E altre fazioni... Però aumentano notevolmente... Poi... Ottieni l'accesso a opzioni di arlo speciale... Per il collettivo Freestar... Ok... Quindi qua dovresti già decidere... Che non sei un tubo... Pi o meno che fazione stare... A quanto si capisce... Per alcune missioni su Neon... Ok... Solo su Neon... Che evidentemente è un pianeta... E taglia sui crimini... E altre fazioni aumentano notevolmente... Ricercato... Qualcuno ha messo una taglia sulla tua testa... Di tanto in tanto... Dovrai vedere sono mercenari armati... Che tenteranno di accuparti... Però quando la tua salute è bassa... Infliggi danni extra... Il tuo corpo è subituato bene allo spazio... Salute e ossigeno aumenta... Quando sei tra le stelle... Ma diminuiscono sulla superficie... A cosa serve... Che abbiamo più salute e ossigeno... Tra le stelle... Che in teoria sei su un'astronava... O mi sbaglio... Vengono il grande serpente... Addirittura il grande serpente... Poi cosa... Esseri con le corne... Non lo so... Fin dell'infanzia il gravi salto... Ti fornisce un aumento... Un aumento temporaneo di salute e ossigeno... Che però calano se non si effettuano salte regolari... Ma stai scherzando... Hai sempre avuto un'avversione per lo spazio... Salute e ossigeno aumentano... Quando sei sulla terra ferma... Ma diminuiscono lo spazio... E ancora non ho capito... Sì... A meno che non incontriamo probabilmente... Come dire... Delle stazioni spaziali... E quanto aumentano... E quanto diminuiscono... Proviamo a mettere questo perché... Diciamo che quando sei su... Ecco a proposito... Ovviamente un'altra cosa... Ovviamente la gente si è lamentata... Che non ci sono dei mezzi... Il trasporto... Sui pianeti... E io anch'io ho visto un tizio... Che camminava per minuti... Per arrivare in una zona... Ma anche qui... Il motivo vero e proprio... Sembrerebbe legato al fatto che loro usano... Questo engine del cavolo... Vetusto... Possa spostarsi... Più veloce di te... Nel senso... Più veloce di te a piedi... Non so se fai... Facciamo un esempio... Fino a 25 km l'arie a piedi... Che ne fai 40... Voglio dire... È comunque meglio no? Allora... A volto... Comunque non mi convince del tutto... Non mi piace... Un po' di significativo proprio... Vediamo la forma della testa... Se c'è qualcosa... Così un po' più carino... Colore a capelli... Quello potrebbe andare anche bene... Sopracciglia... Ok... Colore sopracciglia... No... Direi che non va bene così... Così... Pronte... Orecchie... Vabbè... Guance... Così... Denti abbiamo visto... Piercing... Ma... Perché non metto dentro... Quelli che ti allargano... Totalmente... Il lobo... Va... Francamente non mi fa impazzire nemmeno uno... A massimo teniamo queste... Dai... Ma cambia il colore? Non si... Vabbè... Ehm... Sì... Alla fine... Diciamo che non mi assomiglia... Ma se no ci perdiamo troppo tempo... Ehm... Io qua non so cosa scegliere... Quando viaggio con compagni umani... Ne consumo di più in solitaria... A questo punto provisco senza... C'è qualcosa che voglio capire io... Se io vado avanti... Sono interessanti... A quanto pare si può... Si può evitare di prendere tutti i tratti che vuoi... Sì... Ma forse sono interessanti... Casa... Sogno... Ma abbiamo... Cioè... Questi qua ti succhiano... Cioè qua per avere i genitori... Il privilegio di avere i genitori ti costa... Soldi... A parte con quantitivo di salute è più alto... Ma gli oggetti curativi... No... Questa mi sembra una follia... Educazione illuminata... Ottieni accesso a un baule pieno di oggetti... E la casa degli illuminati di Nuova Atlantica... Ma perde accesso a baule del Sanctum Universum... Che evidentemente sono gli affazioni contrarie... Empatia... Bah... Godi l'attenzione di un fastidioso fan adorante... Che si presenterà a caso e blattererà senza tregua... Lato positivo è che signorirà l'equipaggio della tua nave... E ti farà dei regali... Dai vediamo questo stronzo... Che cosa fa... Sai che non ho capito cosa intendi? Allora poi proviamo a guardare... Ma diciamo che gli illuminati... Però per il fatto che abbiano scelto questo nome... Sarei curioso di capire che cos'è... Infatti sono curioso di vedere dove vanno a parare... Con la storia eccetera... Ho già letto delle cose in cui dicono... Che il finale potrebbe essere... Sulla stregua dei soliti... Ormai è una moda... Ormai film di fantascienza... Giochi di fantascienza... Noi finali criptici no? Tantamente criptici che a volte... Hai dubbio che abbiano davvero un significato... O semplicemente l'hanno fatto criptico... In modo che non si capisca niente... Non hanno capito nemmeno loro cosa hanno fatto... Ma sui charter... Cosa intendi sui charter? Stai parlando di uncharted? Radice freno... Non si può combinare... Ma quando sei restretta la tua salute è bassa... Infliggi danni extra... In realtà non la vedo positivamente... Perché bisogna vedere anche se abbiamo munizioni... Per esempio io quando ho fatto la mia prova... Ero corto in munizioni... Boran dice che col criptico ci puoi fare i sequer... Sì, può essere in effetti... Boh, mettiamo ancora uno o no? Non c'è nulla di interessante la casa... La possiamo comprare senza doverci indebitare... Estroversione, introversione, origini... Queste sono tutte legate a delle fazioni... Quindi io a meno che è questo... Però non mi convincio nemmeno quello... E direi lascio la pedra così... Allora... Che volendo... Niente, adesso vi dico il nome che metterò... Non è webcap, ovviamente... Cioè non è webcap, ma... Metto un nome che piaceva molto... Che ho usato ai tempi di... Quando ho fatto un po'... Ho giocato un po' a Evo Online... Io e un mio amico ci eravamo messi a... Ci sono inventati questo nome... Che in realtà è più che altro il cognome che importa... Perché è come se facevano i fratellini... E niente, il nome è questo... Cercatore di stelle più o meno vuol dire... Starfinder... Io ero Philip Starfinder... Lui si chiama Riccardo... Era Richard Starfinder... Ok... Andiamo il nuovo personaggio... Pronome... Ci sono anche i pronomi... Lei, non binario... Lui... Va bene così, dai... Sì, non è che l'avessi giocato... In un periodo... Buona dice che anche lui ci aveva giocato in un periodo di solitudine... Sì... Ci ho giocato un po'... In realtà non tantissimo... Perché... Poi sai... Dipende anche da quando l'hai giocato... L'hai giocato... Perché... C'è stato un certo punto che hanno semplificato molte cose... Noi l'abbiamo giocato prima che semplificassero molte cose... E quindi c'era un casino per schillare tutte le abilità che ha... E' un casino... Poi invece è forse raggruppato... Semplificato... E' sempre stato considerato una specie di spridicit... Tipo un Excel... Ecco, quattro anni fa... Mi sa che ancora... E l'avevamo già semplificato... C'era questa luce e una musica... Oh, verità... C'è anche qua... 43 frame... Ma sparatevi... By the way... We got what we were looking for... All this trouble for that stupid thing... Sure don't look like much... Never mind what it looks like... It's worth more than this mine has pulled in all month... Will be... Speak of the devil... Ok... C'è qua per esempio è particolarmente pesante... Ma... C'è, è quello che dico io... C'è... Questa quantità di oggetti... La trovi anche in Fallout... C'è... E pure gira... Quindi... Voleva ragione... Ok... Va bene, alla prossima... Buona giornata... Allora... Niente, qua ci c'è mettere sul casco... Però... Non saprei se c'è qualcosa che vale la pena... Di vedere qua, magari... Questo spogliatoio... Comunque, i sistemi sono sempre gli stessi... Per esempio... Va giù le miniere... Sei ricorroso di vedere se si può andare giù davvero... Poi no... Ecco, poi c'è una cosa strana... Quando tu apri il menu e chiudi il menu... Cioè, tieni premuto V... Per un attimo non parte... È come se il menu non fosse stato chiuso davvero... Vabbè... Non lo so... Sembra che un posto sia visitabile anche successivamente... Così ad occhio... Non so che provo... Però... A quanto pare... Niente, veniamo qua... Ci chiede di aprire il coso... Bisogna guardare gli inventari... Io copro l'arma... Ma non è importante... Ehm... Caschi... Ecco... 44 frame... 44 frame... 44 frame... 45 frame... 45 frame... Cosa va... Tanto so già che devo prendere... Contro il cliente... ecco tipo qua punto sta facendo 50 frame se io provo e metto oltre a 43 41 dipende il texto che tra l'altro mi sembra in realtà non particolarmente dettagliate 43 mettiamolo adesso vediamo se metteranno proviamo il media per esempio ok 57 comunque dicevo vediamo se mettono DLS S perché AMD ha detto che loro non obbligano la Bethesda a non usare DLS S la sfocatura nel movimento la tolgo perché mi fa schifo alta no aspetta sfocatura nel movimento no vedremo se migliorano le prestazioni da col tempo ok Sì, hai trovato qualcosa? Qui, il nuovo lo trovato. Certo. E tutto si è piaciuto? È proprio come prendere i minerali di Bindi? Chazam, e no Barrett, non si è piaciuto. Si è passato dopo l'extraccione, si è riuscita a parlare di tutto tipo di nonsensi. Certo, cavalli? Si è piaciuto, eh? Beh, potresti dire che le possibilità infiniti dell'universo sono pieni di tutto ma coincidenze. Allora, un po' di sorprendenza, non sarò lievi, ma rivelare in l'idea di spazio non è l'idea di un buon tempo. Entendo? Ma in realtà non è che abbiamo visto... Allora, un po' di sorprendenza, e io sarei piaciuto che non vedo questa cosa, o tu, mai ancora. E' per questo che mi piace a te, Lynn. All business. Barrett, i scanners sull'interno di fronte sono rappresentano un ship che viene fuori dall'orbitto. E' proprio pensi che ho perduto. Barrett? ecco poi qui voglio capire com'è il discorso dell'accesso alle armi però siamo qua confronto esamina ordina esamina in realtà è questa roba qua puoi mettere nei preferiti però io mi sembra aver visto che c'era una a meno che non hanno usato un mod sembra aver visto che c'è una specie di ruota delle armi io qui fin dove ho giocato io non ho visto niente dovevo continuare a selezionare io puoi uscire però né più né meno è una pistola danno fisico immagino 11 munizioni caricatore è da 12 colpi 106 forse questo che forse non ho visto io ma è forse questo allora il dato o essa perché sembra un po assurdo precisione eccetera eccetera ok forse è questo che devo guardare non ho visto la prima volta che vuoi da me c'è qua per esempio noi spariamo da dietro ma stavolta mi stanno mi stanno un po cagando di più la tua salute bassa ma va c'è ancora c'è ancora non c'è problema questo è il maestro ce ne ho messo ancora uno dov'è questo eh con quel freno di qua ok parla con barrett ma facciamo così raccogliamo un po' di roba perché poi mi trovavo ascia di soccorso credi visto che poi mi serviva quando siamo arrivati sull'altro pianeta ecco qua synapse alpha che è devi star qua 9 oggetti questo potenza ragionamento riflessi migliorano abilità e risolvere problemi vedremo in che senso poi so che è uscito dei mod per quanto riguarda che ti applicano già il dlss ma mi sembra addirittura pagamento qualcosa ecco un'altra cosa che dico latina di etherbrow vediamo cos'è 5% resistenza di danni per 3 metri ma cosa dire per 3 metri? 3 minuti? si sarà per 3 minuti ok un attimo ma ok si tenete il premuto poi l'arma si può quanto pare mettere via tenendo il premuto R ovvero 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 buon lavoro sulla pressione tu asciuggerai l'artifaccia certo? questo significa che lo vedete le visioni tu vieni con me a Constellazione tu sei parte dell'altro ora se stesse Cos'è Constellation? Davvero? Se li possono dimmi cos'è questo manufatto? Oh no, Barrett, no! Tu pensi che ti farai solo dopo la scuola che hai causato? Oh certo, credo che ti ho fatto solo sulla lista di Crimson Fleet. Come se, io resta e mi mando a tu Dusty qui nel mio posto? Lo so, lo so, lo so, ma non è ancora un minore, Lynne. Dopo che ti ho avuto la scuola, qualcosa ha cambiato. Non mi dico che non puoi sentirlo. Bene, è un accordo. Fuori da qui, Dusty. Stai sulle cose più grandi. Ora che abbiamo stato attacchiato... Abbiamo bisogno di prendere e continuare. Agust viene fuori. Non puoi andare. Solo andiamo. Prima di dire qualcosa, mi regretto. Cioè? Che eravamo degli scarsoni? Vosco! 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 Mina! V transmission! Quando vi aiutano gli virus di là paniccola, mi fai veramente... qu kol È una pi Tour!